Nick Greenwald potreste operarmi potresti morire quindi o muoio o guarisco? per me va bene sono sempre stato un tipo irrequieto ma ho imparato a tenere la bocca chiusa ho fatto felice mia moglie ho fatto felice la mia bambina rivolgo tutto questo altrimenti non è vita grazie a tutti grazie a tutti